Allora, grazie a tutti i ragazzi di essere qui. Ringrazio Massimo, Damiano, Marco e l'organizzazione. Amia è la reale medicina perché la medicina anti-aging è medicina preventiva. È quello che vogliamo fare, evitare di ammalarci, star male e quindi massimizzare quella che è la qualità della nostra vita. Adesso alzo, sono qui. Comunque, ringrazio tutti. Oggi parliamo di ritmi circadiani e sensibilità insulinica. È molto importante questo concetto qua perché ci sono due concetti prevalentemente da prendere in considerazione quando parliamo di ritmi circadiani, che è il ritmo diurno e il ritmo biologico, l'orologio biologico. Il ritmo diurno è quello che dipende da quello che c'è fuori. Quindi il sole, l'allenamento fisico, quando mangiate, siete sintonizzati con quello che c'è all'esterno. Il ritmo biologico invece, il nostro ritmo interno, che è qualcosa di ipotalamico generato dal nucleo sovracchio asmatico, è una cosa che dura normalmente 25 ore e si sincronizza, cioè dura 24 ore il nostro ciclo perché c'è il sole, perché ci alleniamo, perché mangiamo una determinata ora, altrimenti saremmo desincronizzati. Il primo scopritore, si dice, è stato scoperto che c'è un ritmo circadiano nelle piante, perché se metti una pianta al buio, la tieni al buio, questa sboccia e va giù indipendentemente da tutto. Ma a dire la verità, i reali fautori e scopritori sono gli egeziani, che quello che vedete lì è rappresentativo dell'occhio di Horus. L'occhio di Horus è la vera e propria epifisi. E pensate che nell'antico Egitto era utilizzato come talismano per rinnovare l'energia psichica, proteggere dagli spiriti, curare le malattie. L'evidenza della somiglianza tra il terzo occhio, che sarebbe l'epifisi, e l'occhio di Horus, il diencefalo, la parte del cervello che circonda la ghiandola pineale, gli egiziani avevano intuito già questa energia rinchiusa in questa ghiandola, tanto che la associavano al potere di Dio. Bene, è questo. Anche perché l'epifisi, che produce la melatonina, produce anche un'altra sostanza, epitalamina e altri peptidi. E quando voi entrate all'interno di quella che è la biologia di questo, capite che epifisi, epitalamina, melatonina, GH e timosina funzionano assieme. La melatonina rigenera il timo, che rigenera l'ipofisi, che rigenera le staminali dopo delle stesse epifisi. Quindi mantenere il sistema immunitario buono, mantenere un buon ritmo circadiano, avere i giusti quantitativi di melatonina, ci rende, da un punto di vista endocrino, più forti. E questa qui è la chiave. Allora, questo qui è il ritmo circadiano. Durante il giorno produciamo delle proteine, che sono le proteine orologio, Bimal e Clock, che producono delle proteine che le vanno a bloccare. Quindi Bimal e Clock aumentano la trascrizione di CRAI e PER, che bloccano Bimal e Clock, che automaticamente vengono degradati e poi risintetizzano Bimal e Clock. È così che va avanti il ciclo. Quando noi andiamo a bloccare una di queste proteine, abbiamo cancro, statosi, insonnia, diabete, deregolazione comportamentale, in particolare modo queste cose qua le possiamo vedere come ad esempio nel cancro. I piloti, le persone che fanno night work, che lavorano di notte o di giorno, sono quelli più predisposti ai tumori. Perché la deregolazione della produzione di melatonina è quella che va a generare un sacco di stress ossidativo, alterazione della funzione mitocondriale, alterazione dei telomeri. Perché la melatonina stessa è un antiossidante. Uno dei antiossidanti più potenti, il più potente, a dire la verità. Quando agisce come Quesser, quando lega gli elettroni, si converte in un complesso chiamato chiluranine. E questi complessi agiscono come antiossidanti a cascata e migliorano, in questo caso, cioè abbassano lo stress ossidativo e migliorano il potenziale antiossidante. Voglio subito andare a quella che è la differenza tra i primati e i topi, perché noi facciamo i studi sui topi di solito, lo facciamo anche sull'uomo, però molto sui topi. Allora, topi e primati sono molto diversi. I topi sono attivi di notte, noi di giorno, non producono melatonina, non sono frammentato, sono polifasici, eccetera. Invece noi dormiamo di notte, produciamo melatonina, siamo monofasici, però ci sono due cose che hanno in comune. E questa è la base. Che hanno bassa sensibilità insulinica nella fase non attiva, ovvero, in questo caso, i topi di giorno e noi di notte. Questo vuol dire, indovinate un po', se mangiamo di notte è un problema. E il miglioramento dello stato di salute dopo allenamento svolto in disallenamento circadiano. In senso, se avete delle persone che lavorano la notte, o se avete delle persone che sono piloti, fatele allenare. Non importa quando, non importa come, fatele spingere. Perché il miglioramento, in questo caso, dell'attività muscolare, e poi, come ha detto giustamente prima, il muscolo è un organo endocrino. Annessina, mionectina, baiba, che sono peptidi che stabilizzano la glicemia, aumentano la funzionalità mitocondriale, attivano le cellule natural killer, sincronizza un ritmo circadiano. Lo sincronizzano. È proprio questo che migliora lo stato di salute se ti alleni, indipendentemente da tutto. Aging, nell'invecchiamento, molte persone dopo i 45-50 anni dormono meno. Vanno a letto magari uguale, però si svegliano prima. Questa qui ovviamente è data dalla calcificazione via via dell'epifisi, quindi si produce meno melatonina e producendo meno melatonina c'è uno shift dell'orologio biologico. E si dorme leggermente meno. Magari la melatonina è la stessa, alle 22 quando arriva il tramonto che iniziate a produrre. Il problema è che in questo caso l'ampiezza cala un po', il quantitativo nell'andare avanti alla notte cala un po', quindi ci si sveglia prima. La possiamo vedere così, da un punto di vista di biologia, oppure la possiamo vedere che c'è più vita da godere, più vita da vivere. Perché ogni volta dobbiamo trovare un significato biologico che è bellissimo, però l'anziano ha più vita da vivere, più vita da godere, e quindi molte volte si può dire sì, dormo meno, perché almeno mi vivo la vita di più. E tante persone che dormono meno, dormono sei ore, stanno benissimo uguale. Anzi, molte persone che fanno delle terapie anti-aging con il GH, con il testosterone, con l'EA, eccetera, notano che hanno un sonno migliore, dormono meglio. Infatti è molto più importante dormire in allineamento circadiano, anche se meno, piuttosto che andare a letto magari alle 2, piuttosto che alle 3, e dormire anche di più. La teoria melatoninergica dell'aging è questa. Meno melatonina, meno sonno non delente, più cortisolo, meno IGF-1, meno DEA. L'IGF-1, ragazzi, cioè tante persone dicono IGF-1, aumenta i tumori, proliferazione, bla bla bla. basso IGF-1 è associato a cellule senescenti. Le cellule senescenti sono quelle che non hanno capito che cosa fare, si sono fermate perché se continuavano così diventavano tumori. Il problema è che la cellula senescente, quando rimane senescente, ha un profilo, un secretoma senescente. E quello che vogliamo fare è attivarle attraverso i processi di metilazione, modulando l'epigenetica, quindi con integratori che si sono detti prima anche, oppure utilizzando i fattori di crescita, in questo caso, sapendoli utilizzare, ma qua sono i medici anti-aging che lo devono fare. Più cortisolo, meno IGF-1 o meno DEA, più insulino resistenza a neurodegenerazione, ipertensione, sarcopenia, patologia cardiovascolarica, ancor, eccetera. Quindi questa qui è la teoria. Se ho meno melatonina ho anche meno glutatione, ho più infiammazione, ho più cortisolo e tutto questo associato a sindrome metabolica e neurodegenerazione. Bene, se non seguo il ritmo circadiano, e questo non vuol dire solamente andare a lato tardi, l'allenamento, il mangiare una determinata ora, questo qua mi va a generare automaticamente infiammazione. Attraverso lo shift della melatonina. Poi ci sono persone e persone a dire la verità, perché ci sono tante persone, l'avrete notato, anche quando voi magari eravate giovani, che non ce la facevate andare a scuola, vi faceva assolutamente schifo, perché non ce la facevate a svegliarvi alle sette. Ma il vostro orologio biologico era un po' shiftato in avanti e andava benissimo svegliarsi alle nove, alle dieci per voi e andare a letto un pochino più tardi. Questa è una cosa normale, è una teoria delle civette o delle lodole. Siamo diversi, ok? Infatti ci sono dei polimorfismi in singolo nucleotide che poi andremo a vedere più avanti, che sono dei recettori della melatonina nel pancreas, che sulla base del polimorfismo vi dicono che shift avete e sulla base di quello potete capire se mangiare di più a colazione o la sera. Questa è una cosa davvero fantastica. Come abbiamo detto precedentemente, c'è un croc periferico muscolare, cioè il muscolo è un organo endocrino infatti interleuquina 15 FGF21 interleuquina 6 BDNF irisina e questo è uno dei motivi per cui allenandomi io vado a migliorare anche il ritmo circadiano perché vado a generare un secretoma muscolare che mi stabilizza la glicemia che comunque succede lo stesso perché comunque il muscolo è un serbatoio va semplicemente attivato. Il muscolo scheletrico è il serbatoio dell'80% del glucoso post-prandiale sebbene consumiamo 13 kilocalorie al giorno non è tanto cioè 13 kilocalorie per chilo è nulla dovete considerare che cuore e rene consumano 400 fegato 200 cervello 200 pure cioè il cervello consuma tanto se volete dimagrire studiate tanto muovetevi poi anche però studiare va benissimo una desincronizzazione del ritmo circadiano e effetti nefasti sulla sensibilità insulinica se silenzio BIMAL e il BIMAL è come ho detto prima è la proteina che vi gestisce il ritmo circadiano ok si inibisce l'espressione di glut 4 e consegue che la tolleranza al glucosio dipende dalla luce cioè il fatto di avere luce il fatto che arriva la luce quindi quando vi svegliate vi esponete al sole anche se è molto difficile qua a marzo io vivo in Thailandia ho sempre la luce sono arrivato qua volevo spararmi mi è venuta la melancogna direttamente perché non vedo il sole se mi sveglio c'è la nebbia impazzisco infatti tante persone cosa fanno utilizzano le lampade a 10.000 lux ti svegli Brian Johnson il billionaire che si fa tutta quanta non so come fa però vabbè sembra che abbia 30 anni praticamente la mattina si sveglia la prima cosa che fa è 10.000 lux sparati sincronizza il ritmo circadiano questa cosa qua e prima di dormire si mette un casco con l'infrared perché l'infrared quando è che iniziate a produrre melatonina al tramonto perché al tramonto perché la luce rossa è quella che ve la stimola a dire la verità il maggiore produttore di melatonina interna è il mitocondrio più che l'epifisi la luce rossa vi aumenta direttamente la produzione di melatonina la luce la prima luce del giorno è l'ultima luce quella del tramonto è quella che vi spara la melatonina al mitocondriale e questo è ottimo per la longevità è importantissimo questo qui è un grafico che fa vedere come camminare tre minuti ogni mezz'ora mi può stabilizzare la glicemia io prendo la melatonina perché non voglio camminare però a parte questo scherzo cammino a parte questo come vedete questa qui è il quantitativo di glucosio delle persone che camminano ogni mezz'ora per tre minuti questo qui invece è il glucosio delle persone che non lo fanno cioè basta pochissimo pochissimo ok questi qua sono degli studi fatti della nessuna resistenza delle persone che lavorano la notte e come vedete il quantitativo di glucosio e trigliceridi è molto più alto in questo caso nelle persone che lavorano di notte hanno un shift del ritmo circadiano hanno fatto vedere che non importa quanto si mangia è il quando è questo il problema quindi dobbiamo dissociarci molte persone sono già dissociate dalla teoria calorico-centrica perché non è quello l'importante un altro studio vado avanti vado veloce questo qui che è uno studio fantastico praticamente prendono due gruppi un gruppo lo fanno mangiare tre pasti stesse calorie tre pasti colazione fatta presto fatta alle 8 pranzo alle 12 cena alle 8 ok a letto e via il terzo gruppo invece gli fanno fare un digiuno intermittente insomma mi ricordo se è di 16 ore questo qua 18 ore 18 ore e quello che succede sono i parametri insulina glucosio e la responsività delle cellule beta migliora qui noi a dire la verità possiamo ripristinare la funzionalità pancreatica anche in diabetici di tipo 2 facendogli fare questa cosa qui poi bisogna stare attenti eh perché se una persona è troppo sovrappeso a tantissimi acidi grassi a tantissimi trigliceri distoccati c'è una alterata sensibilità insulinica dall'eccessiva lipolisi che ci potrebbe essere in quel caso può succedere ok quindi molte volte partire con 12 ore di digiuno all'inizio vuoi fare 14 puoi fare 16 e farlo abituare ok perché potrebbero generarsi potrebbero generarsi rascutanei e cose di questo tipo perché il tessuto di poso accumula quindi si danno degli epatoprotettori normalmente degli antiossidanti per abbassare il processo infiammatorio che potrebbe esserci melatonina prodotta al tramonto prodotta anche dai mitocondri picco tra l'una e le tre 5 minuti sì e dopo 30 giorni eh vabbè cosa dico adesso e dopo i 30 ogni anno cade il 0,5% dosaggio a 0,1 0,3 per sincronizzare l'SNC quindi se volete sincronizzare il lucro sul lachiasmatico basta pochissima melatonina eh da 0,2 0,3 non serve tanta specialmente se avete mal di testa quando la prendete 0,5 1 per l'antiaging 1,5 se problemi di sonno fino a 20 nei tumori nelle infezioni il più potente antiossidante mantiene in vita le cellule staminali ipotalamiche e prevene l'atrofia del timo le donne ne producono di più le donne ne producono di più perché la melatonina riesce a aumentare la sofforizzazione dell'estradiolo quindi che sia perché la donna ha l'estradiolo che vive di più e quindi ha maggiore melatonina per modulare il metabolismo dell'estradiolo forse non lo so sono domande che mi pongo sempre questo qui è un pathway molto carino e fa capire come la melatonina può abbassare i percorsi di crescita questa qui l'ho presa dal dal congresso degli ormoni in America e abbassa la risposta proliferativa proprio grazie in questo caso alla chiusura dei canali che fanno entrare l'aceolino lenico e questo qui è quello che succede di notte infatti la melatonina va a bloccare gli stessi canali allora voglio finire con questo studio che vi avevo citato prima allora praticamente qua si parla di polimorfismi di singolo nucleotide in questo caso qua dei recettori della melatonina nel pancreas quello che si è visto è che sulla base di quello che è il genotipo abbiamo dei ritmi biologici particolari ok se il gg il ritmo biologico è ritardato quindi andare a letto tardi e fare colazione tardi è preferibile se ho cg è indifferente se ho cc andare a letto presto e svearsi presto è preferibile tuttavia la probabilità di diabete è più bassa perché questo perché la melatonina è questa è la base è quello che connette quella che è la sensibilità insulinica con il ritmo circadiano è un ormone che ci rende insulino resistenti perché di notte vogliamo il glucosio in circolo per darlo al cervello non vogliamo rischiare di andare in ipoglicemia quindi se io so quando i picchi di melatonina so anche quando mangiare di più quindi se il picco di melatonina è ritardato non farò colazione se il picco di melatonina è anticipato a questo punto è meglio far colazione provate provate fate proteine a colazione o grassi oppure fate proteine grassi la sera sulla base e di come vi sentite questo comunque è ampiamente scritto sulla cromomorfo dieta massimo e vabbè per finire perché abbiamo pochissimo tempo voglio finire con i peptidi perché ci sono delle terapie alternative per sincronizzare il nucleosurachiasmatico ok quindi si possono utilizzare dei peptidi potalamici che sono presenti li ho ampiamente discussi nel mio libro e ci sono in particolar modo uno l'epitalamina prodotta dall'epifisi sono quattro aminoacidi ragazzi cioè è un modulatore delle funzioni circadiane antiossidante antinfiammatorio sincolin zerologio biologico aumenta l'aspettativa del 15% quando somministrato le scimmie e una cosa da prendere in considerazione è questa ok ok perché ci tengo a farlo vedere c'è una connessione importante tra melatonina timalina e l'epitalon e anche il GH cioè tutti assieme si vanno a potenziare quello che si vede quando abbiamo bassa melatonina con molta più probabilità c'è bassa GH e il timo si atrofizza se il timo sta male ho meno cellule staminali epifisarie quindi ho meno melatonina ho meno epitalon ho meno GH quindi se noi prendiamo in considerazione questo sistema viviamo automaticamente di più l'hanno fatto vedere in uno studio dove prendono dei soggetti gli danno l'epitalon gli danno i peptidi timici e questi rispetto al gruppo non trattato vivono 2.5 volte di più non è fantascienza è la verità la stessa cosa la potete fare anche facendo i giugno intermittente allenandovi meditando seguendo i ritmi circadiani e con questo concludo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti